Siete qua? Vi mostro oggi una maglia della squadra, la maglia, la prima maglia della squadra che l'anno scorso è stupito tutti in Premier League. Questa è la prima maglia del Newcastle per la prossima stagione in edizione FUN! Siete qua? La maglia è molto bella, fatta veramente bene, il costo lo vedete qui sopra, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, trovate anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo che vedevate prima diventa ancora più conveniente. Prima di lasciarvi alle misure, se il canale vi piace, se vi piacciono queste recensioni mettete un grande like ma soprattutto iscrivetevi, questo è l'unico modo che avete per ricevere, per vedere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa, quella che vedete è una taglia media della versione FUN!